un giorno la gente si ricorderà di te per quello che hai fatto o meno o si ricorderanno di te come persona che ha fatto ciò che gli era stato detto di fare un buon dipendente bravo e ligio nel seguire gli ordini oppure si ricorderanno di te come qualcuno che ha fatto le proprie scelte che ha dato un impatto fatto un qualcosa e cambiato il mondo fin da piccoli a scuola ci viene insegnato a seguire gli ordini a obbedire al sistema e fare come tutti gli altri ci viene insegnato ad essere nella media invece di supportarti aiutarti a crescere e sviluppare le tue doti e i tuoi talenti devi restare mediocre in tutto studi per essere un buon discepolo ma non come diventare un grande leader alcuni di noi non accettano di essere nella media perché la media è l'opposto del successo non essere come tutti gli altri sii te stesso sei speciale sei unico hai talenti non permettere alla società di trattenerti da ciò che vuoi veramente fare e ciò che meriti nella vita non lasciare che la gente media ti dica ciò che è possibile e ciò che non lo è sii diverso dalla maggioranza perché la maggioranza è spesso un errore se la maggioranza avesse ragione allora tutti avrebbero successo e il successo stesso sarebbe nella media scava in profondità in te stesso e scopri cosa ami dove la tua passione cosa vuoi fare e diventa bravo in quello quando le persone pensano che tu sia diverso vuol dire che sei sulla buona strada ora proprio questo è il momento migliore della storia umana per diventare chiunque tu voglia essere e creare e progettare la tua vita ideale da te lasciare un segno la vita è troppo preziosa per rinunciare ai propri sogni non vivere nella media fai la differenza grazie a tutti